Nel 1983, sui dialoghi di archeologia, in un numero monografico sui rapporti tra archeologia e antropologia, veniva pubblicato un contributo di Bruno D'Agostino dall'intrigante titolo Società di Vigo, Comunità dei Morti, un rapporto difficile. Lo studioso asseriva come fosse impossibile considerare le tombe di una necropoli specchio fedele della struttura sociale. La necropoli in quest'ottica poteva essere immaginata solo con una complicata metafora di quelle strutture, i corredi come peculiari narrazioni da interpretare secondo specifici codici, in alcuni casi tendenti a mascherare o a nascondere l'identità in vita del defunto. D'Agostino citava correttamente in nota l'intervento di Ian Hodder al meeting della Society for American Archeology tenutosi a Filadelfia nella primavera del 1980. In questo importante primo manifesto dell'archeologia post-processuale, Hodder, riprendendo le teorie di un ideologo del bleirismo, Anthony Giddens, tra l'altro scriveva «Depending on the ideology, material symbols in Burial could be used and could relate to ranking in different ways. If here was an ideology of denial, we might find that the Burial pattern denied the social differentiation. What goes in the graves can be used as part of an ideology which makes domination acceptable by denying it. In altri casi, we might find that the Burial differentiation accurately reflects social differentiation». Fine della quote della citazione. In realtà, nello stesso articolo, D'Agostino riconosceva l'importanza dell'esperienza condotta dagli esponenti della Scuola Francese di Psicologia della Storia, in particolare Jean-Pierre Vernant, come D'Agostino di formazione marxista, che nel 1964 aveva istituito presso l'Ecole Pratique des Sottétudes il Centro Louis-Gernet sullo studio delle società antiche. Fin dall'inizio, gli aderenti del Centro avevano sviluppato una serie di dibattiti sulle pratiche funerarie, intese come metafore e non semplice riflesso delle società antiche. Nel 1976, questa ipotesi era stata il fulcro di un celebre ciclo di lezioni tenute da Vernant al Collège de France. L'anno seguente, con il coordinamento di Gnoli e Vernant e con la partecipazione di diversi studiosi italiani, tra cui D'Agostino, che portava una relazione su alcune sepolture di Ponte Cagnano, e francesi, si era tenuto a Ischia un convegno dal titolo «L'amour, les morts dans les sociétés anciennes», i cui atti vennero pubblicati purtroppo solo nel 1982. Una posizione simile a quella di D'Agostino e dei suoi colleghi francesi in un convegno sul Lazio arcaico e mondo greco, tenutesi alcuni mesi prima, sempre nel 1977 a Roma, era stata sostenuta in un celebre articolo, anche questo peraltro mai citato in alcun contesto post-processuale, sulle sepolture datate tra metà del VI e V secolo a.C. nel Lazio di Giovanni Colonna. «Riscontrando la povertà, se non la quasi completa assenza, della nostra regione di sepolture di quest'epoca, un dato assolutamente in contrasto sia con la ricchezza delle tombe della fase precedente, sia con l'evidenza dello sviluppo urbanistico architettonico ben visibile a Roma e in altri centri del Lazio in questo periodo, Colonna esamina le spiegazioni offerte da vari studiosi. Le tombe di quel periodo non sono state trovate, mancano perché sono state distrutte o spogliate, mancano perché non ci sono mai state, smontandole una a una, fino ad arrivare alla teoria espressa da Pinza nel 1912. Le tombe ci sono, ma siamo noi a non saperle riconoscere». Colonna dimostra l'esattezza di questo assunto, riconoscendo in alcuni corredi laziali poveri, tra virgolette, le sepolture di questo periodo. Tale povertà dei corredi va interpretata come conseguenza di ben precise disposizioni giuridiche di tipo suntuario che Colonna riconduce in modo convincente alla legge delle 12 tavole datata al V secolo a.C., ma il cui impianto risente certamente dell'influenza delle disposizioni di Solone ad Atene della metà del VI secolo a.C. E' infine interessante notare come l'origine di una simile linea di pensiero possa essere rintracciata addirittura in un libro del 1944, Progress in Archeology, del più importante e studioso di presto del Novecento, Vere Gordon Child. Child sostiene che sulla base dei dati archeologici si può constatare come man mano che la ricchezza media di una società cresce, sempre meno oggetti di corredo vengono messi nelle sepolture. E più in generale, come in conseguenza dello sviluppo della tecnologia, sempre meno ricchezza venga dissipata nei rituali funerari o nei sacrifici. Unico dei suoi contemporanei a conoscere la letteratura sovietica, Child a sua volta si ispirava a un testo del 1935 di Kruglov e Podgayevsky, le società preclaniche delle steppe dell'Europa orientale, in cui si sosteneva come il fenomeno si dovesse attribuire alla crescente avidità degli eredi che in coincidenza con l'affermazione della proprietà privata come fonte di ricchezza diventano sempre più riluttanti a seppellire con i loro parenti oggetti di valore, preferendo ovviamente tenerli per sé. Anche la teoria processuale della social persona del resto ha un suo significativo antecedente in un articolo del 1951 di Karl Heinz VIII, uno studioso dell'ex Germania orientale, sulla possibilità di ricostruire i ruoli ricoperti in vita da defunti sepolti nelle ricche tombe della cultura dell'antichetta del bronzo del centro-europea di Aognetiz. Un esempio. Qui VIII cercava di identificare sulla base degli oggetti del corredo le figure del condottiero, dei capi militari, dei sacerdoti, delineando l'esistenza di un'elite che sorge in varie parti d'Europa nello stesso periodo, si vedono le sepolture più eminenti dell'Almeria in Spagna e del Wessex in Gran Bretagna e che deve la sua fortuna al controllo, questa è la teoria di VIII, della produzione metallurgica. VIII considerava queste culture come correlati archeologici della cosiddetta democrazia militare di Engels. Si vede l'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato del 1884, che la considerava l'ultimo stadio della barbarie immediatamente precedente la civiltà, riscontrabili nelle tradizioni sui greci dell'età eroica, le tribù italiche precedenti la fondazione di Roma, i germani del tempo di Tacito e i vichinghi. Ora, scendendo dai ceri della teoria e concreti dati archeologici, nella protostoria dell'Italia centrale tirrenica, in una certa misura anche del resto della penisola, è possibile individuare periodi in cui la struttura sociale appare profondamente mascherata, come la fase antica della prima età del ferro, e altri in cui le élite decidono di autorappresentarsi come tali, come la fase recente dello stesso periodo. Senza arrivare al modello proposto più di vent'anni fa da Jean-Paul Desmules, secondo il quale le oscillazioni tra le fasi della prestitura europea, in cui ci sono forti concentrazioni di potere archeologicamente riconoscibili, i picchi in questo grafico, e altre con manifestazioni di tipo funerario o cultuale a sé meno rilevanti, derivano dai ricorrenti tentativi della popolazione, a volte riusciti, a volte no, di mettere in un freno un tipo di organizzazione troppo ineguale e centralizzata. Bisogna dunque riconoscere in questi mutamenti di costume un riflesso profondo della dialettica tra i gruppi responsabili della formazione delle prime entità proto-urbane e proto-statali e il resto della popolazione. In altre parole, da un lato il desiderio di non alimentare contrasti sociali all'inizio del gigantesco esperimento della fondazione delle città, dall'altro, alla fine del processo, la necessità con l'evoluzione della trasformazione dei centri proto-urbani in vere e proprie città di usare la piena ostentazione del proprio potere legata all'impiego della forza, le tante tombe di guerriero in fondo ce lo testimoniano, come strumenti di dominio dei pochi sui tanti. Se volete non c'è una morale in questo discorso, ma c'è forse il riconoscimento che un certo tipo di interpretazione della storia non è certo morto con le forme politiche in cui questo tipo di interpretazione purtroppo tragicamente è stata tradotta nel Novecento, ma rimane, secondo me, come diceva lo stesso Child, un potente paradigma per interpretare la storia. Grazie.